E poi qui... Aspetta eh, tocca un po' la palbina, non tocca un po' la palbina, di che ha perso. No, aspetta, 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 voglio vedere cosa è se c'è quando si muove i biribiri. Va a quattro. Ah, i biribiri? Ah, i biribiri. Non si può accattare di una decina. Che so che non si fa. E' una piccola. E' una piccola. �라 E' una piccola. E' una piccola. No, lascia più iniziare. Sì, andiamo... Grazie a tutti. Grazie a tutti.